Che cosa intendete quando dite che due vite possono essere opposte ma mai contrarie? Che la vita di una prostituta e quella di una santa sono opposte perché corrono su corsie diverse ma mai contrarie. Perché? Perché sia la vita di una santa sia quella di una prostituta vanno entrambe verso una maggiore evoluzione. Che cosa intendete quando dite che due vite possono essere opposte ma mai contrarie? Che la vita di una prostituta e quella di una santa sono opposte perché corrono su corsie diverse ma mai contrarie? Perché? Perché sia la vita di una santa sia quella di una prostituta vanno entrambe verso una maggiore evoluzione. Che cosa intendete quando dite che due vite possono essere opposte ma mai contrarie? Che la vita di una prostituta e quella di una santa sono opposte perché corrono su corsie diverse ma mai contrarie? Perché? Perché sia la vita di una santa sia quella di una prostituta vanno entrambe verso una maggiore evoluzione. Che cosa règza? Che cosa intendete?